E adesso, ritalli! Opinion Leader si è peggio delle iene, ciao! Prego, venga con me ad asciugarsi. Posso favorirle qualcosa? Un caffè? Un tè? Un pasticcino? Buonasera signorina! Buon Natale! 1, 2, 3, 4, 5! Buon 2008! 8, 9, 10! Venga con me, farà un figurone, vedrà! Che palle queste feste! Anno nuovo, vita nuova! Buonasera signorina! Americana? Buonasera signorina! In questo spazio... Buonasera signorina! Ci prenderemo pure di lei, vedrà! Buon 2008! Ciao! Vediamo le misure. Seno 92, Gironita 65, vediamo dietro? 90, 92, 65, 90. Complimenti signorina! Prego, venga con me ad asciugarsi. Benvenuta nel nostro atelier. Grazie mille!